Cari amiche e cari amici bentornati, questo è il quarto video di meccanica quantistica e oggi parleremo di una questione abbastanza semplice e allo stesso tempo profonda, cioè il fatto che la materia sia quantizzata, cioè sul fatto che se noi prendiamo una certa sostanza non possiamo dividerla infinite volte ma a un certo punto si arriverà a un'unità fondamentale. In altre parole vi voglio parlare di come abbiamo fatto a capire che la materia è fatta di atomi che si organizzano in molecole. Ho già fatto un altro video in cui mostro come abbiamo fatto a capire quali sono le caratteristiche degli atomi ma questo è proprio di base, cioè come facciamo a sapere che esistono, perché non è una cosa scontata. Anzi fino alla fine del 1800 c'è sempre stato molto scetticismo su questo fatto e voglio aprire con una celebre frase che pronunciò Richard Feynman in una delle sue lezioni alla Caltech che è riportata in diversi suoi libri e Feynman disse se in un cataclisma andasse distrutta tutta la conoscenza scientifica e soltanto una frase potesse essere trasmessa alle generazioni successive quale affermazione conterrebbe la massima quantità di informazioni nel numero minimo di parole. E secondo Feynman, e difficilmente si può essere in disaccordo con lui, la frase sarebbe che tutte le cose sono fatte di atomi, piccole particelle che si agitano in un moto perpetuo attraendosi quando sono un po' distanti l'una dall'altra ma respingendosi quando sono schiacciate una contro l'altra. Un qualunque dispositivo tecnologico moderno non potrebbe essere concepito se non si sapesse che la materia è fatta di atomi. L'idea che esistessero gli atomi a origine antica è stata introdotta da Democrito quasi 2500 anni fa che considerava gli atomi come particelle omogene e indivisibili. Ora sappiamo che non sono né omogene né indivisibili ma comunque l'idea di fondo era corretta. Ma noi come facciamo a sapere che esistono questi atomi? Cioè li possiamo vedere? Esistono dei microscopi abbastanza potenti che ci permettano di vedere un atomo? Per capirlo dobbiamo avere in mente che cos'è il potere risolutivo degli strumenti ottici. Il potere risolutivo è la minima distanza per capire che due oggetti sono separati. Quello dell'occhio umano è circa 200 micrometri cioè 0,2 millimetri. 1000 micrometri sono un millimetro. Se due oggetti sono più vicini di questa distanza li vediamo come un unico oggetto. Il microscopio ottico nasce nel 1600 e i più potenti microscopi ottici hanno potere risolutivo di 0,2 micrometri cioè mille volte migliore di quello dell'occhio umano. Di meglio non si può fare perché è proprio un limite dettato dalla lunghezza d'onda della luce visibile quindi non è un problema di miglioramento tecnico. Cioè questo potere risolutivo è già il massimo che si può ottenere con dei microscopi ottici composti cioè fatti di molte lenti che possono arrivare fino lì. E con questo potere risolutivo si possono già osservare molte cose interessanti come funghi, cellule umane, protozoi, batteri ma sicuramente non gli atomi. Fortunatamente quasi 100 anni fa è stato inventato il microscopio elettronico che anziché utilizzare la luce utilizza gli elettroni i quali hanno una lunghezza d'onda. Vedremo che anche gli elettroni hanno una lunghezza d'onda che è più piccola di quella della luce visibile quindi si riesce a vedere più in profondità. Ho messo la parola vedere tra virgolette perché non è una visione nel senso standard che intendiamo noi perché solo con la luce visibile si può vedere in senso stretto. Diciamo che possiamo capirne la forma studiando questi fasci di elettroni. Con i microscopi elettronici si possono osservare i virus, si possono osservare gli organuli cellulari cioè gli elementi che compongono le cellule ma ancora non si possono vedere atomi e molecole. Infine circa 40 anni fa è stato inventato il microscopio effetto tunnel. Esso ha un potere risolutivo di 0,01 nanometri, un nanometro alla millesima parte del micrometro e effettivamente con un microscopio a effetto tunnel è possibile vedere gli atomi. Non è così difficile capire come funziona un microscopio a effetto tunnel. In pratica si utilizza una punta conduttrice estremamente piccola che è portata molto vicino alle superfici da esaminare e quindi viene applicata una differenza di potenziale. Alcuni elettroni attraversano il vuoto tra la punta e la superficie per effetto tunnel. Questo è un concetto della meccanica quantistica e vuol dire che anche se non hanno l'energia necessaria qualcuno riesce a farlo lo stesso per l'incertezza quantistica. Ne parlerò poi in futuro. Quindi misurando le correnti prodotte da questi elettroni si capisce come è fatto il campione che si sta esaminando. Questa è una delle prime foto di atomi fatta con un microscopio a effetto tunnel e con tale microscopio con questa punta si è anche riuscito a spostare gli atomi. Questa foto è stata realizzata nel laboratorio dell'IBM in Svizzera nel 1989 e vedete che hanno disposto gli atomi di xenon posti su una superficie di nickel proprio in modo a formare la scritta IBM. Gli atomi di nickel appaiono come continui proprio perché non sono stati messi a fuoco con questa punta anche se il termine fuoco è improprio perché non ci sono delle lenti. In conclusione oggi noi siamo in grado di vedere gli atomi però abbiamo detto che il microscopio a effetto tunnel è stato inventato una quarantina d'anni fa mentre noi sappiamo che esistono gli atomi dall'inizio del 1900 cioè quasi 100 anni prima dell'invenzione del microscopio a effetto tunnel. Una data significativa per la comprensione del modello atomico è il 1827 anno in cui un botanico Robert Brown osservando del polline al microscopio del polline in soluzione acquosa notò che le particelle si muovevano facendo dei piccoli scatti in direzioni casuali. Siccome la funzione del polline è quello di trasportare il gamete maschile a quello femminile è un pochino l'analogo di quello che sono gli spermatozoi per il regno animale. Quindi Brown dapprima pensò che queste particelle erano mosse da una forza vitale. Egli però ripete l'esperimento anche con frammenti di legno secco con polvere di vetro polvere di pietra e osservò sempre lo stesso effetto. Facendo molte prove riuscì anche a scartare l'ipotesi che questi movimenti fossero dovuti a piccole correnti o all'evaporazione dell'acqua e quindi non riuscì a trovare nessuna risposta. Nel 1888 il francese Leon Gui indagò più a fondo questo movimento, capì che era più vivace nei liquidi a bassa viscosità, osservò che non era influenzato né dalla luce né da campi magnetici e ipotizzò che l'acqua era composta da molecole e gli urti delle molecole d'acqua creavano questo movimento. Il moto browniano si può osservare non solo in acqua ma anche nell'aria, ad esempio del fumo di sigaretta se viene osservato al microscopio presenta questo moto browniano. Vi lascio un video in cui mostra questo fatto, potete trovare il link in descrizione. Un video non mio, l'ho trovato su youtube e ne potete trovare anche voi altri probabilmente. In conclusione, a Gui va il merito di aver avuto l'intuizione corretta, però egli non sviluppò una teoria quantitativa, cioè non fece dei calcoli basati sull'ipotesi che l'acqua era fatta da molecole e questi calcoli portavano a concludere che le particelle si dovessero muovere esattamente in quel modo. Voglio mostrarvi una simulazione realizzata dalla Boston University che simula il moto browniano, quello rosso è il granello di polvere e quelle blu sono le molecole d'acqua. Vedete, gli urti casuali spostano la molecola in una direzione casuale. Questo simulatore non rispetta esattamente la realtà perché in realtà le molecole sono molto più piccole rispetto al polline ma hanno velocità estremamente grandi e quindi questi urti sono abbastanza violenti e poi non bisogna pensare che il polline sia mosso da un unico urto, ma ci sono tantissimi urti che avvengono contemporaneamente. Se la particella è grande, questi urti per la legge dei grandi numeri sono distribuiti in modo uniforme quindi non si ha moto browniano, mentre se la particella è piccola gli urti non sono distribuiti in modo perfettamente simmetrico e si ha uno spostamento. Ovviamente moto browniano deriva da Robert Brown, il primo che ha osservato questo movimento. Come dicevamo mancava la trattazione quantitativa ma ci viene in aiuto una vecchia conoscenza cioè Albert Einstein che fa la sua tesi di dottorato proprio sul moto browniano. Einstein riuscì a calcolare la forza risultante degli urti tenendo conto di alcune equazioni fondamentali della fluido dinamica e supponendo che questi urti fossero distribuiti secondo una gaussiana. Inoltre considerò le forze di attrito viscoso e con calcoli molto elaborati trovò l'equazione fondamentale del moto browniano. Tale equazione permetteva di calcolare lo spostamento quadratico medio, cioè un indice statistico che ci dice di quanto mediamente si spostano le molecole in un certo tempo T e la formula è questa. Tiene conto della costante R dei gas, della temperatura assoluta del gas, del numero di Avogadro, del raggio delle particelle che possiamo assumere come sferiche e della viscosità del fluido. Il fatto di aver trovato questa equazione era molto importante perché queste sono tutte grandezze fisiche misurabili anche se misurare il raggio delle particelle non era facile però si può fare e da queste misure si può calcolare il numero di Avogadro. Se il numero di Avogadro è in accordo con quello che era stato calcolato attraverso altri metodi, allora ciò voleva dire che il modello atomico era consistente. Come vi dicevo questo studio è stato presentato nella sua tesi di dottorato e solo undici dopo venne pubblicato sugli annalender physics. Vi lascio il link se volete scaricare il pdf di 12 pagine dell'articolo. Ve lo posso far vedere qui velocemente, questo è proprio lo scritto di Einstein in cui fa i vari calcoli per ricavare l'equazione che avete visto in fondo. Eccola qua in alto, scritta in modo leggermente diverso. Sfogliando queste pagine vi potete anche rendere conto di quanto sia assurda la leggenda metropolitana che vuole che Einstein non conoscesse la matematica. Fisica è una materia quantitativa, le intuizioni devono essere consolidate con calcoli, oltretutto Einstein era un fisico teorico non sperimentale e quindi lui appunto si occupava di utilizzare la matematica come strumento di indagine. Ciò non toglie che molte sue intuizioni siano state assolutamente geniali e vanno ben oltre le conoscenze matematiche. Quindi come dicevo Einstein non era un fisico sperimentale e quindi non era in grado di verificare la validità della legge. E quindi il suo paper, sebbene consolidato da solidi calcoli matematici, rimaneva ancora una congettura. Infatti la teoria molecolare era ancora rifiutata da molti eminenti fisici dell'epoca come Mach e Oswald. La principale critica era data dal fatto che il moto browniano era in contrasto con l'enunciato di Kelvin del secondo principio della termodinamica. Cosa dice questo enunciato? Dice una cosa molto semplice, che è impossibile ottenere lavoro meccanico se l'energia viene presa da un'unica sorgente termica. Cioè ci devono essere due sorgenti a due temperature diverse, una temperatura più alta e una temperatura più bassa. Invece il polline in sospensione nell'acqua si muove e prende questa energia unicamente dall'acqua che è tutta la stessa temperatura. E come si risolve il paradosso? Si risolve semplicemente ammettendo che il secondo principio della termodinamica non è valido su scale microscopiche. E non è valido per il semplice motivo che il secondo principio si basa su questioni statistiche, cioè sul fatto che il moto delle molecole, essendo casuale, su grandi numeri si manifesta in modo uniforme. Ma su scala microscopica possono avvenire degli eventi che fanno diminuire l'entropia o che trasformano interamente l'energia termica in lavoro, anche perché l'energia termica non è altro che movimento delle particelle, quindi di fatto a livello microscopico è energia meccanica. Ad ogni modo gli oppositori del modello atomico furono presto smentiti perché solo tre anni dopo, nel 1908, arrivò la verifica sperimentale della legge del moto browniano formulata da Einstein. L'esperimento fu condotto da Jean-Baptiste Perin, francese. Fu un esperimento molto laborioso e delicato, come lo stesso scienziato racconta, e la parte più difficile fu la preparazione di una buona emulsione. Cioè lui doveva ottenere delle sfere di raggio noto e tutte uguali in modo da poterne studiare il movimento in funzione del loro raggio. Qui illustro brevemente la procedura che lo portò a ottenere pochi decimi di grammo di sfere delle dimensioni desiderate con mesi di lavoro e ingegno, ma alla fine riuscì a ottenere molte misurazioni cambiando le dimensioni dei granelli, la viscosità del fluido, la temperatura e ottenne con ottima approssimazione il valore oggi noto del numero di Avogadro. Per questo lavoro di ricerca sperimentale ricevette il premio Nobel nel 1926. In conclusione lo studio del moto browniano portò due fondamentali risultati. Il primo fu l'accettazione della teoria atomica e quindi come diretta conseguenza fornì un fondamento sperimentale alla meccanica statistica sviluppata principalmente da Boltzmann e da molti altri. Per il momento concluso ma a breve verrà pubblicato un nuovo video di meccanica quantistica in cui parleremo della quantizzazione della carica elettrica. Grazie per l'attenzione e a presto.